...dagli anni 30 perché il nonno del mio compagno è passato di qua per lavoro e si è innamorato di questi posti meravigliosi per cui io e il mio compagno proviamo veramente tanto affetto. Ed è su questo che vorrei farvi riflettere, nel senso che in questi 17 anni in cui ho cominciato a venire qua in vacanza e poi dopo sono venuto a vivere qua tre anni fa, ho notato che ci sono magari alcune difficoltà per un po' tutti gli abitanti nella differenziazione dei rifiuti, nel buttare il fattume proprio banalmente. Io spesso vado a passeggiare appunto sul centa o comunque in mezzo alla natura perché il motivo per cui siamo venuti qua è vivere la natura meravigliosa che c'è appunto a Caldonazzo in Val Sugana, scusate, e solo nell'ultima settimana ho raccolto quattro sport di plastica da deriva del centa. Quindi penso insieme al gruppo vorremmo sensibilizzare tutte le persone a come si potrebbe migliorare questa situazione. è niente. Grazie.